Periodo difficile per i dipendenti comunali di Pozzuoli che per i tagli lineari dell'amministrazione si stanno vedendo ridotti i salari accessori. Ieri mattina si è tenuto un sitino all'interno della casa comunale di Pozzuoli in via Tito Livio da parte delle sigle sindacali che criticano i tagli lineari apportati dall'Aggiunta Magliulo, come ci spiega Follero della Will FPL. Tiene conto solo di un risparmio del bilancio senza tener conto delle difficoltà dei dipendenti che si ritroveranno in busta paga delle mancanze di salari accessorio. Questo ci può portare a una difficoltà proprio di organizzazione della macchina comunale perché hanno tenuto conto effettivamente anche dei servizi che noi lo chiamiamo alla città non tenendo conto degli orari di servizio e di tutto quello che poteva essere un qualcosa per migliorare l'attività amministrativa nella città di Pozzuoli. Dal canto loro i sindacati propongono il recupero delle morosità degli utenti di razionalizzare i servizi ed evitarne le esternalizzazioni. Ascoltiamo le parole di Capuano della CISL Funzione Pubblica. Siamo venuti ieri qui però devo dire che già in mattinata abbiamo messo un presidio con CISL Will per sensibilizzare un po' l'amministrazione a chiudere e soprattutto a confrontarsi con le organizzazioni sindacali su un tema, così come diceva prima Leonardo, su un tema che ci è non solo caro sotto l'aspetto dell'erogazione dei servizi ma che comunque contempla anche un taglio netto in busta paga dei lavoratori. Non c'è un minimo, uno straccio di proposta che vada al di là di quello che è stato un mero calcolo ragioneristico, tagliando il salario accessorio, tagliando i servizi alla cittadinanza senza nessuna giustificazione. Noi invece abbiamo fatto un discorso molto più completo, molto più programmatico, quello del recupero delle morosità, quello delle maggiori entrate, quelle delle minori spese, della reinternalizzazione dei servizi per il ciclo integrato dei rifiuti e dell'acqua. Su questi temi noi non abbiamo avuto un benché minimo confronto.